ma io già... ma che cazzo sta a fare? sta a canzare! è sparmatato! no, beh, questo è un po' da sesso! guarda, guarda, guarda... guarda è mungoloidi! Beh, ragazzi, mi grazie siamo, tognei un nuovo video di GTA ok, siamo sempre qui siamo però su GTA Online, siamo in free... mo... Agab annunciata come fosse la cosa del senso, sì, ti faccio, ti faccio, ti faccio... no, andiamo a far tu unica macchina ma non si modifica la macchina regalo il conto è troppo bello c'ho messaggio, c'è un po' ah, c'è un po' per cazzo hey franklin do you want a beijo del tempo? oh, franklin ha una macchina mette una dinamica incredibile ciao, t'apposto? oh, dai un po' c'è un po' facile di vero e sbam a me è di tutt'amare riparo il veicolo quanti noi ricordiamo? non c'hai armature non c'hai freni motori c'hai solo un motore da potenziare bellissima noi così ci abbiamo esplosivi, klaxon inoltre nazionale uc vabbè, vabbè luci kit neon schema neon anteriore, posteriore, con te i posti i laterali, sti cazzi, famo duro ci mettiamo pioggiaturata che fa bene pioggiaturata fa bene, fa bene fa cagare, verde lime rosso-rosa-boni, no no, rosaponi, vai mamma mia sennò c'è, aspetta, questo è rosaponi, questo è, no, rosacaldo se vedete più si viola? no viola sembra blu che è luce nera? ma che cazzo è? è blu non è nera allora questa era nera si vedeva, no? era l'ombra prevenzione prevenzione segnalatore, no, sti cazzi c'hai tanto targhe quella questa è troppo è proprio la targa colore principale mettiamo un bel cromato no vediamo cosa c'è sta cromato, super chicche proprio ma mamma mia incredibile simbolo crew non ci abbiamo mai non è una crew benissimo farebbero non proprio che vindi un msci lo rai del masco forse la spostuzione tuner ah no è tuner ah no è tuner ah no è cosa detta marra che se lo fa vabbè lasciamo questi besti colore cerchio di si commette certo viola ma che direi proprio un bello salsamone mamma mia stavo fai dietro questa macchina accessori voi non si può vedere non si può vedere come per il fumo viola come per il fumo viola come per il fumo viola ma vedete lo fa eh ma adesso finissimi viola leggermente scurati perchè non ci devono vedere perchè magari ci vanno per culo andiamo mamma mia che roba guardala no ma è figa è troppo bella io mi faccio così la macchina aspetta scusa ma guarda eh guarda il fumo viola vai 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 guardalo guardalo mamma mia questo è troppo bella sta macchina è troppo bella ole ok ora possiamo andarla sfasciare no no si ho speso 20.000 per fare sta macchina un po di più diciamo devo fare la fine con questo macchino un'emozione se vuoi diventare ci hanno più buona che ha detto mi tosana ma comprare non comprare la maschera purifica cos'è no fa la maschera so io che maschera so io che maschera so io che maschera due stanno i maschere eccole o so io che maschera ok adesso andiamo a comprare la maschera poi andiamo a fare tipo siamo la nuova gang di Los Santos la gang è la gang di Lecce la gang dei proci la gang dei proci bello boh agar boh boh se vuoi da solo ok ok mi vado al cazzo e quella è la casa maschera come comprare ma basta mi fa comprare chissà ahahah oh muta cibo questo cappello stasera 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 non posso perchè sbirri c'è 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 becce perchè ancora non ha visto come fu no magari la canzone no no noi non sentiamo il volume quindi non posso sapere se sono oh quanto cazzo ci metto ma che sfido è peggio occhio stasera ma che culo un fumo che cosa è così stupido che sti ora riesco non mi riconosco si si eccoli ciao ciao oh c'è uno là che infrange la legge vai animali pro sole nero guardia progetti grigio maiale marrone scimmio marrone chiaro questo maiale sanguinario mi sono bloccate maiale scimmio verde scimmio rosa ma io in realtà mi trovi un bel progetti c'è un bel progetti c'è un bel progetti progetti 25mila voi cojones sei quello dei grado c'è bello pure del negozio da voi ho capito ok dopo sta cosa davvero chiudi vaffanculo tutti solito da lì adesso andiamo a fare una nuova gang che stupirallo santos stupirallo santos stupirallo santos stupirallo santos siamo pronti a una rapina subito con la prima vittima a ripare la gente oh in realtà li vogliono investi tutti però ciao mazzurro mazzurro vai non la città di soldi da me sono da me ho con il spascio locale non hai capito dammi soldi sbrigate dai butta dentro geni chan dai e dai da 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 cazzo che cazzo è ma che sta con il buco in b vai 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 scappa 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 me ero e' la roma e' la santa se che il buco che spagini terrore chi si chiama salve di rastanti poco si fanno chiamare la gare delle checche non sappiamo qual'è il motivo forse la macchina rosa il buco non ho la cosa orrenda cazzo sono bloccato guarda guarda e' così stupido che non manco mai insensate perciò bello 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 che bello si andiamo dove c'è rosa guarda che bello non si va da nessuna parte lo so però c'è rosa è bellissimo guarda che qua è finito lo so tranquillo ma vedi che volo che faccio no 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 non lo fa 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 ti vedi di quattro no non lo fa cazzo ahia la cifra sei se ti vedo le finito di live o pronti mamma mia vittoria ma c'è anche a livello 9 incredibile e' ora e' ora e' ora c'è festeggiare no 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 per festeggiare tu fai l'altro fai cosa di fai festeggiare oh oh mamma mia fisi fermate fai festeggiare e' lei cazzo però ho chiesto c'è una di Marcia in seveda o cazzo sattavo la macchina sottopoli c il mongolo il mio mamma mia ciao i giorni ma che cazzo sta fai il sanguato arba non mi stai un mondo prendi mongoloidi a che cazzo sta da fa vabbè senti eh io metto in culo proprio posso grazie manco preso velocità che colpa, ragazzi e te lo si buttate al mare si cazzi ciao in fondo al mar 50.000 dollari buttate ah cazzo è vero eh vabbè e io mi uccido chi è vero chi sa ste cose rosse che esplodono ma la dico te c'era una tipo di sbuffi rossi qua come si scende sott'acqua di cristo comunque ragazzi mentre lui va sott'acqua e si diverte noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video se vi è piaciuto questo tuning queste rapine a mano armata fuga dalla polizia stai zitto sto morendo sto morendo sto morendo di cristo noi ci vediamo al prossimo video ciao